Dalla banchina nord a quella sud, lo spostamento riguarda il mercato all'ingrosso del pesce. I tempi per adeguare la struttura scelta all'ex stazione marittima del porto pescarese si prevedono in quattro mesi dall'assegnazione dei lavori che dovrebbe avvenire entro fine anno. Come dire, prima della prossima estate la struttura potrà entrare in funzione. Per l'ammodernamento verranno utilizzati fondi regionali, poco più di un milione, ma si dovranno trovare altri 500 mila euro per i nuovi frigoriferi e per allestire i magazzini. Del resto anche i numeri sono importanti. Il mercato genera un fatturato di 3 milioni, oltre 500 le tonnellate di pesce lavorate, il 70% rimane sul territorio, dati che l'amministrazione comunale intende migliorare. Sul nuovo progetto presentato questa mattina sentiamo gli assessori Masce e Cremonese. Tanti lavori importanti all'interno e all'esterno di questa struttura, però ci sono anche degli aspetti gestionali che saranno ancora più importanti. Certamente in questo finanziamento la parte preponderante è data proprio dal totale rinnovamento della parte software e hardware con un sistema che sarà tra i più moderni in Italia e che quindi andrà nella direzione di migliorare gli affari, di migliorare gli scambi, di migliorare la vita pratica e operativa di chi lavora intorno a questo mercato storico della pesca per la nostra città di Pescara. La stazione marittima dove verrà posizionata invece? La stazione marittima verrà posizionata secondo le previsioni del piano regolatore portuale a ridosso della darsena commerciale nel piazzale che verrà ricavato dopo la rimozione dal parte del provveditorato alle opere pubbliche dei residui all'interno della cosiddetta vasca di colmata. Queste sono le previsioni di sviluppo della città perché i collegamenti con la Croazia non sono meno importanti ma anche essi sono nel DNA dei pescaresi e quindi io conto che a breve questa amministrazione insieme alle altre possano restituire ai pescaresi questo scambio con l'altra parte dell'Adriatico. Abbiamo pensato che la zona nord debba essere dedicata, debba avere una funzione turistica ricettiva mentre la zona sud è una funzione commerciale. Da qui nasce l'idea di spostare il mercato ittico all'ingrosso nella banchina sud del porto. Chiaramente le ragioni sono evidenti, ci sono maggiori spazi. In più avevamo un mercato ittico all'ingrosso ormai in una struttura che comunque ha tanti anni, la riporteremo invece in una struttura nuova e faremo una sala del mercato del pesce, una sala d'asta che sarà tra le più innovativa non solo del nostro paese ma diciamo una delle più innovative d'Europa.